A seguito dell'ennesima chiusura di bar e ristoranti portata dal ritorno in zona arancione coincisa con il giorno di San Valentino per il quale i ristoranti avevano già preso prenotazioni e comprato la merce, cresce la preoccupazione ma anche la rabbia degli operatori del settore. Una condizione quella delle continue chiusure a fronte della quale molte attività temono di trovarsi a breve a dover abbassare definitivamente le saracinesche. A Teramo l'assessore al commercio Antonio Filipponi si è fatto portavoce del grido di dolore degli esercizi di somministrazione e chiede che questi possano restare aperti non solo a pranzo ma anche in zona arancione. Lo stiamo chiedendo ormai da mesi, diciamo una cosa molto semplice. Nella fase 2 abbiamo avuto la dimostrazione plastica che non sono le attività di somministrazione quando operano nel rispetto delle regole a far aumentare i contagi perché avevamo le attività di somministrazione completamente chiuse ai contagi che si arrivano alle stelle. Quindi che cosa chiediamo? Chiediamo insieme all'attività di ristorazione. anche misure più restrittive ma la possibilità di avere continuità cioè di lavorare sia a pranzo che a cena. Che cosa significa? Se permettiamo agli utenti di entrare nelle case dei privati due per volta e nelle stesse abitazioni è difficile, quasi impossibile direi controllare l'utilizzo di mascherine, dispositivi eccetera perché non possiamo permettere a tutte le attività di somministrazione di restare aperte con il distanziamento previsto, con misure ancora più restrittive però permettere di dare un futuro garantito a queste attività che ormai non sanno più se acquistare le materie prime, non acquistarle eccetera. Il vero problema in questo momento delle attività di ristorazione, dei bar eccetera è proprio la movida così come l'abbiamo vista in questi weekend che probabilmente è la vera causa per quanto riguarda il lato della ristorazione dell'aumento dei contagi. Sicuramente non vediamo la causa dell'aumento dei contagi nelle persone sedute ai tavoli con le stesse misure autorizzate dal Ministero quindi delle due l'una o le misure previste per queste attività non sono sufficienti oppure bisogna capire di intervenire dall'altra parte e quindi sulla movida.